L'Alma Basket di Patti è stata ammessa alla Serie A2 nazionale, lo ha comunicato ieri il presidente del Sodalizio Attilio Scarcella. Questo titolo la squadra di Mara Buzanca lo ha inseguito con tutte le sue forze. Nella stagione 2018-2019, dopo aver vinto brillantemente il campionato di Serie B, Sicilia-Calabria aveva sperato di superare anche gli scogli dei play-off nazionali, sogni che si sono infranti al primo turno contro Viterbo. Lo scorso anno, mentre primeggiava già in classifica ed in prospettiva di affrontare nuovamente i play-off, l'Alma Basket aveva anche acquistato il pivò Giorgia Manfrè, proveniente dalla RR Retail San Giovanni Valdarno di A2, per prepararsi con il giusto tasso tecnico e tattico ancora ai play-off, ma a causa dell'interruzione dei campionati per il lockdown tutto è stato congelato. Oggi, con questo titolo di A2, la squadra di Mara Buzanca può guardare al presente e al futuro in modo completamente diverso e la città di Patti, dopo tanti anni, è nuovamente annoverata tra le grandi società nazionali del basket femminile. A breve fornirò i nomi del nuovo roster, gli impegni della squadra e i nomi della nuova compagine societaria, ribadito il presidente Scarcella. Ritengo che questa sia una grande notizia per tutta la provincia di Messina, che potrà godersi la propria squadra sia in casa che seguirla fuori.